Salve, ci ritroviamo di nuovo qui dopo il Natale per festeggiare la Santa Pasqua con i nostri presepi e anche perché noi vogliamo divulgare l'alte presepista non solo per i presepi tradizionali ma anche per quelli pasquali, difatti questo è il quarto anno consecutivo che facciamo la mostra qui a Candela. Hanno collaborato a questa mostra gli amici di Sansevero, di Sant'Agata e in più i corsisti che quest'anno stanno collaborando a realizzare un presepe e lo facciamo del tipo palestinese. Il nostro obiettivo come ho già detto nel periodo natalizio è quello di incrementare questa passione affinché si estenda in tutti i paesi limitrofi, non solo a Candela ma anche altri paesi che finora non conoscono quest'arte. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli amici che stanno vedendo e particolarmente al nostro Presidente che mi auguro che ci veda sul sito dei Sant'Agates nel mondo affinché veda come noi ci proteiamo e facciamo questa diffusione. La nostra mostra verrà inaugurata il 21 e si auguriamo che molti visitatori la vengono a visitare. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.